Allora, questo è un messaggio per il bellissimo coro di Campignas. Cantate sempre con il cuore, facendo passare la parola di Dio dalle orecchie al cuore, per poi poterla esprimere ai vostri fratelli. Fate veramente della vostra vita un atto d'amore a Dio, un canto d'amore a Dio. Tutte le vostre cose che vivrete, fatele veramente come un canto, quindi con amore, con prudenza, con attenzione e sempre pensando che quello che fate sarà sicuramente qualcosa di bello per gli altri. Quindi buon canto, buona vita e tanta gioia nel Signore.